Ciao a tutti, ecco sono Ciccietti2 e torno con la seconda parte, meglio secondo episodio di Road la scalata come sta andando? insomma, adesso giudicherete voi, sono fermo sui 3820, 30 coppe, 40 coppe, scendo a 3795 quando mi attaccano e mi fanno ben, pensate, 28 coppe, 30 coppe mi portano via quindi passiamo subito a vedere due clip che ho registrato nei giorni scorsi ok, attacco della serie Road2Titano raccogliamo un po' e andiamo a cercare intanto chiediamo qualcosa perché non ho quasi nulla ok, vediamo un po' cosa troviamo questo credo che mi farà del male intanto sono in macchina questo 27 ma mi sa che non ci arrivo deve tentare le due stelle e anche per la parte della scuola e quindi la scuola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo 14 diciamo che distruggiamo lì in mezzo. Se distruggiamo lì, allora io potrei distruggere... Dai, questo ce lo facciamo. Io potrei distruggere, diciamo... 1, 2, 3 e 4 mettendo questi così... Metterei qua le furie, qua la prima gelo... qua metterei questo, qua metterei questo, qui gli metterei un po' di archi, anche qua... qua metterei questo, questo no, non andava bene... Ok, tira laggiù, dai, dai regina, dai! Brava regina! Qua metterei questo... Ho sbagliato e ho picchiato la regina anche se non dovevo... come sarà la regina... come sarà... dai, dai, dai... la regina muore, ma ancora in petta, 60%. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua... Ok, 70%, ottimo direi... Ok... Vediamo un po'... Cosa riusciamo a fare ancora... Nient'altro direi... Va bene... Termina la partita... Direi buono... Direi decisamente buono... Ok... Per superare... Il muro del 3700... Vediamo un po'... Cosa possiamo trovare... Eh... In questa giornata... Senza rischiare troppissimo... Magari con qualche risorsina... Avrei esagerato... Vediamo... Vediamo... Che cosa possiamo... Undici minuti di ricerca... Diciannove... Vediamo se qua... Lì riesce... Il secondo Mac... Qua è fattibile... Lì distruggo... Qua... Proviamo... Dovremmo riuscirci a fare... Le stelle... Vediamo... Sì... Vediamo... 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 Grazie a tutti. Ottimo. Direi 53%, 54%, 56%, 57% direi 58%, mettiamo a casa anche un discreto bonus di 6, 6, 12 cose. 12 cose. E così rispondiamo il 3700C. Bene, questo episodio finisce qui, un episodio molto breve. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate dei like e soprattutto sono interessato ai vostri commenti su tecniche e tattiche per scalare. Ciao a tutti.